Nei prossimi mesi nasceranno altre associazioni anti-racket in Puglia per dimostrare che è indispensabile stare accanto agli imprenditori nella loro coraggiosa azione di denuncia delle estorsioni. Lo ha annunciato il coordinatore regionale dell'associazione anti-racket Renato De Scisciolo presente a Foggia nell'aula di Corte d'Assise alla prima udienza del processo denominato Corona che vede alla sbarra 34 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, sequestro di persone e detenzione di armi. Un'altra trentina di imputati ha scelto di essere processata con il rito abbreviato. Entro settembre nascerà l'associazione anti-racket a Foggia, annunciato De Scisciolo, poi toccherà Monte Sant'Angelo ed altre realtà in tutta la Puglia. Ieri siamo stati proprio con il vice ministro Bubico, abbiamo già programmato per la creazione della nuova associazione anti-racket su Foggia. Sicuramente fine mese o fine luglio o inizi di settembre ci sarà la nuova associazione anti-racket. Nasceranno circa otto associazioni in Puglia, di cui a Bari, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Severo, Gravina in Puglia, Fasano e Austuni. In attesa di giudizio ci sono esponenti di primo piano della malavita di Foggia che avrebbe avuto, secondo la DDI e i carabinieri, strette sinergie con potenti organizzazioni criminali come la mafia garganica, il clan dei Casalesi e Cosa Nostra. La federazione anti-racket nazionale e quella regionale hanno annunciato la costituzione di parte civile. L'udienza è slittata il 18 settembre a causa dei difetti delle notifiche ad alcuni imputati alle parti offese. Il ruolo delle associazioni è appunto quello di promuovere le denunce e di portarle fino alla fine, quindi con la costituzione di parte civile e con la testimonianza in aula.